Ok Sly, è ora che Ryoichi si riprende il ristorante di sushi. La porta sul davanti sembra l'unico accesso. Se vogliamo far entrare Ryoichi, dobbiamo liberarci della guardia. Purtroppo, la sicurezza è stato di allerta per l'evasione e non possiamo correre il rischio di far scattare un'allarme. Per questa operazione ci servono delle... istruzioni sbagliate. Che cosa intendi? Indossando l'armatura da samurai, scommetto che riusciresti a dare il cambio alla guardia davanti alla porta. Giusto. E poi, l'armatura mi dona molto. Ti prego! Nessuno entra o esce, chiaro? Non voglio altri problemi. Quello deve essere L.I.F. Ciao a tutti, sono Gabri Costa oppure Gabri Sun. visto che siamo in questo Giappone feudale. Dobbiamo infiltrarci nel ristorante di sushi. Però dobbiamo metterci il costume da samurai per ingannare le guardie. Basta vedere sulla mappa la destinazione. Accidenti, ma i puntini rossi sono i nemici. Ok, puoi entrare Ryoichi. Si è. Si suona lo scudo. Vai toccatere Ryoichi, infiltrati. Vi aspetto nella seconda parte, se volete. Ok? Ciao a tutti. Ciao a tutti.